Dopo più di vent'anni nessuno è riuscito a trovare un responsabile. Com'è possibile che uno dei casi più controversi e famosi del Giappone sia ancora irrisolto? Ragazzi buonasera, sono Andrew e anche questo venerdì sono pronto a raccontarvi una storia da brividi. Se vi piacciono le cose oscure, macabre e misteriose siete nel posto giusto perché questo è tutto ciò di cui parliamo qui. E oggi torniamo ancora una volta in Giappone. Ogni volta che parlo di un caso ambientato in quel paese mi piace ricordarvi che io lo amo. Finalmente sono riuscito ad andarci qualche settimana fa e me ne sono innamorato ancora di più. Lì sembra proprio tutto perfetto, pulito, ordinato, i treni addirittura arrivano in orario. No vabbè a parte gli scherzi sembra davvero che tutto funzioni alla perfezione. Tuttavia un posto perfetto non esiste e anche il Giappone come tutti i paesi del mondo ha i suoi problemi e i suoi lati oscuri. La storia che voglio raccontarvi oggi metterà l'accento proprio su alcuni di questi aspetti perché nonostante sia uno dei posti più sicuri al mondo anche lì avvengono delle cose agghiaccianti. Accadono magari più di rado ma quando accadono sono spesso più disturbanti e raccapriccianti di ciò a cui siamo abituati. Oggi parliamo della storia della famiglia Miyazawa. La famiglia Miyazawa è una tranquilla e normalissima famiglia giapponese composta da quattro persone. Mikio, il padre di famiglia, ha 44 anni. Yasuko, invece, è la moglie di Mikio e ha 41 anni. Entrambi sono grandi lavoratori. Mikio, infatti, lavora per una grande e famosa società di marketing con sede a Londra mentre Yasuo è un'insegnante privata che insegna agli alunni a casa sua. I due sono descritti come una coppia assolutamente tranquilla, simpatica e accogliente. Tutti i loro conoscenti raccontano che erano le classiche persone che vanno d'accordo con tutti. Hanno, direi, abbastanza amici e, in generale, nessuno ce l'ha con loro. Sono veramente amiche un po' di tutti. Oltre a loro due, nella famiglia, ci sono anche i loro figli. Nina, che è la più grande, ha 8 anni. E poi c'è anche il piccolo Ray, che ha solo 6 anni. Nina, la figlia, frequenta la seconda elementare, ama giocare, è divertente, è una bambina a cui piace molto muoversi, simpatica, le piace il calcio e anche la danza. Ray, invece, è il più piccolo in quel periodo, nel periodo in cui è ambientata la vicenda, quindi anno 2000, stava attraversando un periodo un po' difficile perché i genitori avevano appena scoperto che soffriva di un lieve disturbo del linguaggio. Un disturbo che, tra l'altro, stava venendo trattato. Insomma, niente di preoccupante e niente per cui non si potesse fare qualcosa. Infatti la famiglia lo stava aiutando come meglio riusciva. Il clima familiare è amorevole e rilassato. E finalmente, direi, negli ultimi video abbiamo parlato sempre solo di famiglie disastrate, famiglie disfunzionali, mentre in questo caso qui, no, tutto il contrario, è una famiglia normale, una famiglia sana, va tutto bene, è tutto perfetto. L'unico piccolo problema che forse aveva questa famiglia era quella questione del piccolo Ray, ma non era niente di terribile, niente di irrisolvibile, anzi, quindi veramente se la passavano molto bene. Eppure, purtroppo, la loro tranquillità non durerà ancora per molto. Mikio e Yasuki, marito e moglie, si erano trasferiti nella loro nuova casa a Setagaya, un quartiere di Tokyo, nel 1990, o nel 91 a seconda delle fonti. Setagaya è appunto un quartiere per lo più residenziale di Tokyo. Probabilmente vi farò vedere dov'è nella mappa. Quando la famiglia Miyazawa si è trasferita in quella zona, diciamo che era in fase di sviluppo. Stava crescendo tutto quel quartiere. Era una zona molto tranquilla e con oltre 200 famiglie residenti. Lì, inoltre, c'era anche un bel parco in cui la gente si incontrava, faceva giocare i loro bambini. Era veramente un quartiere perfetto per crescere dei figli. La famiglia Miyazawa, infatti, trova casa in un edificio condiviso. Praticamente è una casa, una sorta di villetta, divisa in due. In questa villetta, che era appunto divisa in due, vivevano, oltre alla famiglia Miyazawa, anche i genitori di Yasuko. Adesso vi farò vedere una foto di questa villetta. E considerate che nella parte sinistra, quella più grande, vivevano appunto i genitori di Yasuko. Mentre nella parte più piccola, quella a destra, viveva la famiglia Miyazawa, i quattro membri di questa famiglia, che vi ho presentato. Comunque, come vi accennavo prima, lì vicino, in quella zona, c'era un parco che veniva frequentato spesso da famiglie con i figli, magari anche qualche skater. E anche da un gruppo di giovani ribelli che appartengono ai Bosotsuku. Una sorta di banda di motociclisti giapponesi, ribelli. Per via di questo, ma soprattutto per via di un nuovo progetto di riqualificazione del parco, che appunto sarebbe stato espanso di molto, la zona comincia a spopolarsi, cioè proprio il comune suggerisce alle famiglie che vivevano lì di trasferirsi, perché appunto ci sarebbe stato questo enorme lavoro di riqualificazione del parco. Quindi, nell'anno 2000, i Miyazawa avevano solo altre quattro famiglie che vivevano vicino alla loro. Cioè, quando sono arrivati nel 90, ce n'erano 200 residenti, mentre dieci anni dopo ce n'erano solo quattro. Sono rimasti in pochissimi, la zona è diventata un po' isolata a quel punto, e questo probabilmente ha anche influito in ciò che accadrà. In giro c'era poca gente, di notte il parco faceva davvero paura comunque. Insomma, diciamo che nel 2000 da quelle parti non tirava una bella aria. Le vicende di cui voglio parlarvi, tuttavia, sono ambientate verso la fine dell'anno 2000. Più precisamente a fine dicembre. Il 25 dicembre, infatti, il giorno di Natale, Yasuko, la madre della famiglia Miyazawa, racconta al suocero che una strana macchina aveva parcheggiato davanti alla loro casa. Cosa inusuale. Due giorni dopo poi, il 27, un testimone ha raccontato di aver visto un uomo sulla quarantina a girarsi vicino alla casa della famiglia Miyazawa. È una cosa apparentemente innocente, dato che c'era il parco lì vicino, ma forse è comunque una cosa da tenere in considerazione. Il 29 poi, in un minimarket lì vicino, viene fatto un acquisto un po' strano, o almeno strano considerando la storia che vi racconterò, ovvero un coltello da sashimi. Poi lo stesso giorno, il 29 dicembre, viene avvistato un altro uomo, diciamo un po' strano secondo i testimoni. Viene avvistato nella zona in cui viveva la famiglia Miyazawa. Viene descritto come un uomo che indossava degli abiti tipici da skater. Un testimone lo ricorda come un po' strano, un po' inusuale. Gli ha fatto venire dei dubbi, ecco, diciamo così. Il giorno dopo, il 30 dicembre, vicino alla stazione di Senagawa, non troppo distante da dove vivevano i Miyazawa, viene visto un altro signore che corrispondeva alla stessa descrizione dello skater strano del giorno prima. Pare che questo strano personaggio si stesse avvicinando sempre di più alla loro casa. E tra la notte del 30 e le prime ore del mattino del 31 dicembre 2000, succede una vera e propria strage. La sera del 30 dicembre, in casa di Miyazawa, c'era un'aria di festa, diciamo, anche perché il giorno dopo sarebbe stato capodanno. Avrebbero festeggiato tutti insieme, come al solito. Però i Miyazawa erano completamente ignari di ciò che li attendeva in quel momento. Intorno alle 18 del 30 dicembre, la famiglia esce e va a fare shopping. Verso le 19 sappiamo che Yasuko, la madre della famiglia, chiama sua madre, che, se vi ricordate, viveva nell'altra metà della casa, e la chiama per portare sua figlia Nina dalla nonna. Nina, quindi, che aveva un rapporto bellissimo con sua nonna, entra in casa sua e sta in casa sua fino alle 21.30 circa, mentre lì guardano insieme un programma in tv. Poi alle 21.30 appunto la bambina torna a casa e, come vedete, fino a questo momento non è successo nulla di anormale, nulla di strano. L'ultima attività che abbiamo di quella sera è un'email letta intorno alle 22.38. Mikio, il padre, ha letto un'email di lavoro protetta da password a quell'ora lì. E dico l'ultima attività perché, poco tempo dopo, non si sa bene di preciso quando, la famiglia Miyazawa non avrebbe potuto mai più fare niente. Ciò che accadde quella notte è ancora oggetto di tantissime discussioni. Ma, stando a quello che ho trovato online, quella che vi racconterò io sembra essere la versione o una delle versioni più accreditate. Presto capirete anche perché non ci sono molte certezze riguardo a questa serata. Quella sera, un uomo sconosciuto si arrampica su alcuni alberi e riesce ad entrare nella casa di Miyazawa attraverso una piccola finestra del bagno del secondo piano. Il suo primo obiettivo è la camera da letto di Rei, il figlio più piccolo. La sua stanza si trova proprio vicino al bagno da cui è entrato. Questo sconosciuto, quindi, trova il bambino che dorme e si accanisce contro di lui. Comincia a strangolarlo senza pietà. Entrambi lasciano varie impronte digitali in giro per la stanza, il che potrebbe voler dire che il piccolo ha cercato di difendersi con tutte le sue forze. Una volta ucciso in questo modo atroce il piccolo Rei, si crede che il padre, Mikio, abbia sentito degli strani rumori e si è corso su per cercare di proteggere suo figlio e la sua famiglia. Sappiamo che Mikio era sicuramente il primo piano a lavorare, ma, secondo la ricostruzione, non fa neanche in tempo a salire al piano di sopra che questo sconosciuto lo raggiunge e il suo corpo infatti verrà ritrovato appunto al primo piano, proprio accanto alle scale. Aveva molte ferite, principalmente nella zona delle cosce e dei glutei, ma sono state trovate ferite da taglio anche sulle braccia, sul petto e sul viso. Ciò significa che ha lottato per la propria vita e per difendere la sua stessa famiglia, ma purtroppo non ci ha riuscito. Mikio è morto per le troppe ferite, specialmente quelle al petto. Anche se il colpo di grazia gli è stato inferto in testa con un coltello da sashimi. E tra l'altro questo colpo gli è stato inferto con talmente tanta furia, talmente tanta forza, che il coltello si è rovinato, si è rotto. Quindi, con Rei e Mikio ormai senza vita, lo sconosciuto continua con la sua strage. Yasuko e Nina in quel momento sono in camera da letto, in una sorta di soffitta, che dormono. Questa soffitta in realtà era camera da letto appunto ed era accessibile tramite una scala pieghevole che si trovava al secondo piano. E anche la loro stanza era situata vicino al bagno. Comunque, entrambe vengono pugnalate più volte principalmente nella zona del collo e del viso. Entrambe ovviamente provano a scappare e effettivamente ci riescono per un attimo perché dalla ricostruzione si pensa che non siano morte subito, probabilmente anche per via del fatto che il coltello che stava usando questo sconosciuto era ormai rotto, era rovinato. Quindi magari si è scagliato contro di loro, loro sono comunque riusciti a sopravvivere ai primi colpi, hanno iniziato a scappare per la casa cercando di uscire, ma lo sconosciuto è riuscito a recuperare un coltello nuovo dalla cucina della famiglia e ha continuato a colpirle con la nuova arma. Addirittura si pensa che Yasuko prima di morire abbia cercato di scappare con Nina mentre sanguinava. Si pensa che l'abbia presa in braccio si è accorsa giù per le scale con lei in braccio però comunque non hanno fatto in tempo ad uscire dalla casa che lo sconosciuto le ha raggiunte e le ha uccise e le due infatti saranno ritrovate accovacciate schiena contro schiena e si crede che la piccola Nina sia morta per ultima. La causa del decesso è stata determinata come lesione del midollo spinale cervicale causata da una ferita d'arma da taglio. Un dettaglio direi raccapricciante è che pare che lo sconosciuto si sia accanito in particolar modo contro Nina perché oltre alle ferite dell'arma da taglio le mancavano anche due denti quindi probabilmente era stata picchietta vi ricordo che aveva otto anni. Come vi ho detto è una vera e propria strage infatti questo caso viene ricordato come il massacro di Setagaya e in effetti è stato proprio così è stato un massacro e tutto questo sembra essere avvenuto in pochissimo tempo ma non è finita qui perché quella sera succedono altre cose questa persona questo sconosciuto questo mostro rimane dentro casa per un bel po' in teoria sicuramente ci rimane per un po' ed è questo l'aspetto più strano e inquietante di tutta la storia praticamente che cosa fa questo uomo dopo aver ucciso la famiglia va di nuovo nella zona della cucina e tira fuori dal frigo qualche coppetta di gelato qualche coppa di gelato prende proprio il gelato e anziché mangiare il gelato usando il cucchiaio ma perché ti devi mettere a mangiare un gelato in un momento del genere non lo so infatti non era una persona per niente a posto già per aver ucciso sterminato un'intera famiglia dal nulla ok ma per le cose che farà dopo vi renderete conto che veramente questa persona non ci stava dentro c'era qualcosa che non andava qualcosa di pesante che non andava infatti anziché mangiare il gelato comunque con un cucchiaio è iniziato a prenderlo e a mangiarlo con i denti a raschiarlo con i denti e mangiarlo in questo modo qui ok dopo di ciò si beve giusto quelle quattro bottiglie di tè quattro bottiglie di tè non so neanche come abbia fatto e oltre a quello beve anche della coca cola e della birra che erano rimaste in frigo poi sempre in cucina trova anche un cerotto con cui cerca di medicare una ferita che si era fatto alla mano destra e sappiamo questo particolare perché è stata trovata la cassetta del pronto soccorso che i Miyazawa tenevano in bagno cioè si è visto che è stata aperta e ha preso qualcosa poi dopo aver fatto questo lui a un certo punto si sdraia nel divano si mette comodo come se fosse in casa sua non sappiamo per quanto tempo sia rimasto sul divano ma ha fatto stack e c'è stato perché appunto gli agenti troveranno vari segni del suo passaggio pure lì dopodiché comincia a tirare fuori tutti i cassetti che trova e addirittura ne porta uno intero con tanti documenti nel bagno e getta tutto il contenuto di questo cassetto nella vasca non si sa bene per qualche motivo gli effetti personali di Yasuko tra cui le sue due borse il portafoglio di Mikio poi le chiavi di casa e vari documenti subiscono un destino simile diciamo questa persona li getta nel gabinetto buttando sopra anche altri oggetti come uno asciugamano bianco imbrattato del suo stesso sangue e una tazza di gelato vuota poi diciamo che fa i suoi bisogni nel gabinetto e non tira l'acqua lascia tutto lì dopodiché scende al primo piano di nuovo e si rilassa tranquillamente sul divano quello che sappiamo per certo è che l'assassino ormai sappiamo che è un assassino era ancora a casa dei Miyazawa a luna di notte perché a luna e 18 di quella notte è stato rilevato un accesso al computer di Mikio questa persona lo ha usato per 5 minuti ha creato una nuova cartella e ha visitato il sito web di un teatro da lì in poi non abbiamo più tracce l'uomo è sparito nel nulla quindi se n'è andato e anche se non sappiamo a che ora sappiamo che ha lasciato indizi su di sé ovunque ovunque ragazzi tuttavia pare che proprio nessuno abbia capito cosa stesse succedendo in quella casa quella sera sappiamo che verso le 10 di sera un testimone che camminava lungo lungo il parco ha sentito una discussione avvenuta dentro la casa di Miyazawa ma non ricordava alcun rumore forte o urla particolarmente preoccupanti gli sembrava in quel momento che fosse una lite domestica come tante altre poi circa un'ora e mezza dopo un membro della famiglia di Yasuko quella della porta accanto effettivamente ha sentito un forte rumore non sappiamo l'ora esatta in cui l'abbia sentito però non hanno indagato ha semplicemente sentito un rumore strano e non si è preoccupato più o meno nello stesso momento un altro testimone che forse era proprio uno dei pochi vicini rimasti in quella zona che vivevano in quella zona dice di aver visto un uomo correre lungo il sentiero che passava accanto alla casa della famiglia e purtroppo ragazzi questi sono gli unici tre testimoni che hanno qualcosa da dire in realtà ci sarebbe anche una quarta testimonianza ma da prendere veramente con le pinze perché praticamente è un tassista che era passato da quelle parti quella sera e ricordava di aver avuto tre clienti uno di questi lo ricordava come molto strano praticamente li stava portando in una stazione lì vicino e apparentemente uno di questi tre uomini aveva una ferita e ha lasciato una macchia di sangue sul sedile posteriore del taxi l'autista ricordava questo fatto come molto strano ma ovviamente non avrebbe avuto motivo per farsi prendere dal panico ne avrebbe avuto un modo di collegare questo fatto a quello che era successo in quella casa anche perché in quel momento nessuno sapeva cosa stava accadendo in quella casa o cos'era accaduto quindi sì è un'altra testimonianza che però non porta da nessuna parte quindi alle 10.40 del mattino del 31 dicembre del 2000 i corpi di Mikio sua moglie Yasuko e dei loro figli Nina e Rei vengono scoperti trovati dalla madre di Yasuko che preoccupata dato che non aveva avuto le loro notizie era andata a controllare da questo momento partiranno le indagini la polizia arriva sul luogo e sono tutti terribilmente provati da quello che trovano crimini del genere sono davvero rari in Giappone specialmente in quella zona che era così tranquilla i giornali cominciano subito a far uscire articoli con titoli scandalistici per enfatizzare la tragedia che era appena successa una cosa veramente bruttissima cioè ma lo fanno un po' tutti i giornali vabbè comunque a parte questo particolare che mi dà un po' fastidio da questo momento viene fatta tutta la ricostruzione degli eventi che già conosciamo e che vi ho raccontato poi vengono trovate ovviamente tutte le tracce e tutti gli indizi che ha lasciato quest'uomo è solo grazie a queste indagini che sappiamo bene ciò che è successo a ognuno dei membri della famiglia e da questo momento in poi il caso si suddivide possiamo dire così in tre punti specifici le prove sul divano il dna e le speculazioni partiamo dalla prima al di là di tutte le prove trovate in cucina e in bagno anche sul divano il killer aveva lasciato tantissimi oggetti sono più o meno una decina e parliamo di due coltelli una sciarpa un marsupio un maglione una giacca un cappello dei guanti delle scarpe e due fazzoletti sembra che si fosse proprio spogliato di tutto ciò che aveva addosso ma non abbia nascosto tutta quella roba l'ha lasciata lì in bella vista il che è abbastanza strano vabbè come se tutto il resto non fosse strano veramente questo caso non ha senso è assurdo e fa veramente io sono incazzato mi sto incazzando scusate ma mi sto incazzando comunque i detective analizzano tutte queste prove e partono dai coltelli partendo appunto da questi oggetti si scopre che erano esattamente le armi del delitto sia il coltello rovinato sia quello che lo sconosciuto aveva rubato dalla cucina della casa poi la sciarpa è stato invece l'oggetto più difficile da individuare nel senso che gli agenti e gli investigatori non riescono proprio a capire da dove potesse provenire non capiscono quale sia il produttore dove sia stata venduta secondo le informazioni ricevute dalla polizia la sciarpa sembrava essere stata regalata in luoghi come centri ricreativi sale giochi negozi insomma particolari così così molto strano per quanto riguarda il marsupio invece si trattava di un marsupio molto usato presentava vari segni di usura ed è descritto come relativamente piccolo quel modello in particolare di marsupio era stato venduto in Giappone dal settembre 1995 al gennaio 1999 costava relativamente poco ed era prodotto in Corea e grazie a questo dettaglio si comincia a pensare che il killer l'assassino avesse delle origini coreane all'interno del marsupio comunque vengono trovate alcune tracce di un agente fluorescente rosso non so che cosa sia e delle ciocche di capelli scuri dell'assassino cioè delle sue ciocche di capelli e già questo direi che è un bel indizio ora invece passiamo al maglione era sottile e abbastanza anonimo a Tokyo erano stati venduti solo 10 di questi maglioni e tutti i negozi che ormai erano chiusi in tutto il Giappone invece ne erano stati venduti solo 130 però per quanto questo numero possa sembrare basso ovviamente non è facile risalire a tutti gli acquirenti specialmente all'acquirente singolo che ha comprato quel maglione che poi ha ucciso la famiglia è un indizio in più però da solo non vale quasi nulla il resto dell'outfit era composto da un cappello da pescatore grigio lavorato a maglia una giacca imbottita nera e dei guanti neri di taglia taglia unica il cappello era stato venduto dal settembre del 1999 al novembre del 2000 la giacca invece di taglia L era un modello del 2000 quindi era tipico era abbastanza comune insomma in quell'anno ed era disponibile nei negozi dal settembre del 2000 quindi l'aveva preso da poco per forza i guanti invece erano di un marchio giapponese chiamato Edwin ed erano acquistabili dal 1998 al 2000 gli investigatori però si accorgono che alcuni di questi vestiti profumavano in modo particolare e sono riusciti a risalire al profumo si tratta di Dracar Noir un profumo francese venduto in Giappone a partire dall'82 per quanto riguarda poi gli ultimi oggetti abbiamo le scarpe che analizzate fanno credere ancora di più che l'uomo che stavano cercando fosse originario della Corea perché le scarpe erano di un marchio britannico le Slazanger non so come si pronunci e quel modello era stato prodotto in Corea del Sud era stato venduto sia in Corea che in Giappone ma il Giappone non aveva mai venduto la taglia che avevano trovato in casa la taglia dell'assassino che era più grande rispetto alla taglia massima che era stata venduta in Giappone quindi per forza l'aveva comprata in Corea o almeno così hanno pensato gli investigatori passiamo invece adesso ai due fazzoletti neri si trattava di due fazzoletti prodotti dalla marca giapponese Muji uno di questi era stato molto probabilmente utilizzato dall'assassino per avvolgere il manico dell'arma del delitto perché aveva un taglio lungo 3 cm proprio al centro tutti questi indizi e tutte queste prove che ha lasciato sono veramente strane tutta questa vicenda è veramente particolare perché di solito nelle scene del crimine si trovano pochi indizi poche tracce oggetti personali del responsabile qui invece abbiamo una sovrabbondanza di prove anche perché oltre a tutti questi oggetti e vari altri sparsi per la casa abbiamo anche una quantità di tracce DNA che fa paura ragazzi il killer ha lasciato il suo codice genetico praticamente ovunque e infatti ora parliamo del secondo macro aspetto dell'indagine ovvero la questione del DNA gli investigatori ne trovano di tutti i tipi dalle feci lasciate in bagno alle tracce presenti nella camera di Ray e alle tracce presenti nei vestiti e negli oggetti lasciati sul divano trovano persino tracce del suo sangue quindi per un certo verso gli investigatori sono stati fortunatissimi ad avere tutto questo c'erano i presupposti per trovarlo praticamente subito eppure nonostante tutta questa sovrabbondanza di prove non trovano nessuno ovviamente tutte le tracce sia del DNA tutti gli indizi viene tutto analizzato e classificato vengono anche raccolte delle tracce di sabbia che erano presenti all'interno del marsupio e gli investigatori scoprono che provengono sia dal deserto del Nevada più precisamente dall'area della base aeronautica di Edwards in California sia da uno skate park in Giappone quindi si comincia anche a pensare che potesse essere un turista o comunque qualcuno che veniva dagli Stati Uniti e che era stato in Giappone per un po' di tempo insomma cominciano a formularsi varie ipotesi poi tornando al DNA vengono prelevati appunto tutti i campioni le impronte digitali tutto quanto ma niente corrisponde a nessuno presente nei loro database ciò vuol dire che il colpevole non aveva precedenti penali fisicamente capiscono che l'assassino era alto circa un metro e settanta ed era magro probabilmente era nato tra i 65 e l'85 quindi in quel momento avrebbe avuto tra i 15 e i 35 anni capiscono anche che probabilmente era destrorso il suo sangue viene schedato e viene comparato e analizzato insieme a quello dei familiari dei Miyazawa per capire se fosse uno di loro qualcuno della famiglia perché sembrava un crimine molto personale cioè era chiaro che l'assassino conoscesse la famiglia non era qualcuno che era entrato lì a caso la conosceva e la conosceva molto bene probabilmente comunque analizzano questo sangue pensando che appunto potesse esserci qualche corrispondenza col sangue della famiglia Miyazawa e scoprono che era sangue di tipo A e che non apparteneva a nessuno della famiglia Miyazawa viene quindi fatta un'altra analisi del suo sangue e scoprono che l'assassino era maschio e probabilmente di razza mista il DNA da parte di sua madre quindi la parte materna di questo DNA indicava delle origini europee probabilmente proveniente da un paese dell'Europa meridionale vicino al Mediterraneo o al mare Adriatico e qua si parla di corredo genetico della madre dell'assassino quindi non è sicuro che sua madre fosse di quelle zone o avesse origine in quelle zone ma è possibile che anche semplicemente i suoi antenati fossero di quelle zone appartenenti a quelle zone il corredo genetico del padre invece proveniva dall'Asia orientale quindi per questo che si pensa che l'assassino fosse di razza mista cioè non fosse completamente asiatico completamente europeo quindi questi risultati molto confusi portano gli investigatori a chiedere l'aiuto all'organizzazione internazionale della polizia criminale perché l'assassino potrebbe non essere del Giappone quindi avrebbero avuto bisogno dell'aiuto anche della polizia estera ma su questo aspetto ci torneremo tra poco ora parliamo degli escrementi ovviamente vengono analizzati anche quelli e ci danno forse un'informazione in più riguardo questo killer coloro che analizzarono questi escrementi trovarono delle tracce di spinaci e sesamo e anche dei fagiolini il che non aiuta le indagini perché sono degli alimenti che comunque molti giapponesi mangiano quindi queste informazioni non portano a nulla non c'è nessuno che in quel momento corrisponde a tutti i dati che hanno prendendo tutti i dati tutte le prove che hanno e mettendoli insieme nessuno corrisponde alle descrizioni per cui nonostante tutti questi risultati dobbiamo per forza spostarci sulla fase più controversa della vicenda ovvero le speculazioni le speculazioni per definizione non sono da prendere come prove certe e fatti concreti ma da tutto ciò che era stato scoperto inevitabilmente dato che non viene trovato un assassino nascono varie teorie tutte più o meno valide alcune da parte del popolo altre da parte ovviamente degli investigatori io ora vi riporto quelle degli investigatori all'inizio di aprile di quell'anno quindi circa 100 giorni dopo gli omicidi la polizia trova qualcosa di interessante trovano una piccola statua buddista a circa qualche chilometro di distanza dalla casa dei Miyazawa questa statuetta è a immagine di Jizo una divinità buddista che protegge i bambini nell'aldilà e che cosa c'entra tutto ciò con la nostra storia beh si dice che Jizo protegge i bambini che muoiono prima dei loro genitori tenendoli al sicuro dai demoni mentre ascendono nel mondo degli spiriti la polizia originariamente considera questa statuetta un po' come una prova pensando che forse l'assassino l'avesse lasciata indietro come segno di colpa o rimorso dato che aveva ucciso anche due bambini piccoli però questa statuetta è un'altra pista che non porta a nulla le indagini si spostano quindi sui testimoni su tutti i collegamenti riguardo gli oggetti anche quindi per esempio il minimarket in cui era stato comprato il coltello da sashimi ma pur prendendo questa via trovano davvero poco anzi quasi nulla allora provano a pensare dei moventi dei possibili moventi e stando agli agenti questi possibili moventi possono essere tre denaro rancore e un terzo completamente sconosciuto la teoria del denaro fa venire molti dubbi infatti molti sono scettici anche se effettivamente c'è stato un furto il colpevole ha rubato dei soldi ma solo 150.000 yen circa 1000 euro ad oggi lasciando però in casa altri soldi che invece avrebbe potuto prendere molti dubitano infatti che qualcuno ucciderebbe un'intera famiglia per una cifra del genere l'assassino poi ha rubato anche un orologio di poco valore ma ha lasciato in casa circa 190.000 yen se si fosse trattato di una semplice rapina perché avrebbe lasciato lì dei soldi e perché avrebbe ucciso Yasuko e Nina che dormivano in camera loro questo ci porta al secondo movente il rancore forse il più plausibile oltre al piccolo Rei che è stato strangolato comunque un modo di togliere la vita molto personale anche questo comunque il resto della famiglia ha incontrato una morte ancora più dolorosa Nina e Yasuko sono state addirittura accoltellate al viso cioè c'era effettivamente un odio verso qualcuno di loro questa qui è l'ipotesi o forse il killer odiava di più le donne di questa famiglia vista la violenza con cui si è accanito contro di loro sono tutte domande senza risposta forse ha fatto tutto questo per un rancore fortissimo e quindi si è lasciato andare rovinando tra l'altro vari effetti personali della famiglia vi ricordo che tra le tante stranezze il killer aveva anche gettato nella vasca vari oggetti delle vittime ma perché a che scopo cioè è tutto troppo difficile da capire e per questo ci colleghiamo al terzo movente ovvero quello incomprensibile l'assassino potrebbe aver avuto una motivazione completamente diversa da tutte quelle ipotizzate magari ci sfugge un particolare un dettaglio in cui si nasconde la verità la soluzione ma ancora non siamo riusciti a trovarlo e anche se abbiamo tra le mani il dna di questo assassino comunque non si può fare nulla è come se fosse un fantasma nonostante abbia lasciato moltissime tracce di sé dopo quell'episodio lì è sparito nel nulla non è mai stato ritrovato un dna che combaciasse col suo qualcuno pensa che si sia tolto la vita mentre tanti altri pensano che sia ancora libero negli anni abbiamo avuto davvero poche certezze riguardo questo caso anzi una certezza c'era ma è stata distrutta una delle poche certezze è stata distrutta perché per anni si era creduto che il killer si fosse connesso a internet per la seconda volta intorno alle 10 del mattino del 31 dicembre ovvero pochissimo tempo prima dell'arrivo della madre di Yasuko quella che poi ha scoperto la scena del crimine e però devo dirvi che nel 2014 la polizia pubblicò una notizia dell'ultimo ora notizia bomba ovvero che l'accesso a internet delle 10 era molto probabilmente stato un incidente il mouse del computer trovato dalla polizia era caduto sotto il tavolo e si era collegato al sito web dell'azienda di Mikio che era nella sua home page la polizia giapponese quindi ha condotto un esperimento utilizzando lo stesso tipo di computer ma kintosh utilizzato dalla famiglia Miyazawa e hanno concluso dopo questo esperimento che il risultato più probabile era che la madre di Yasuko avesse lasciato cadere accidentalmente il mouse quando aveva trovato i corpi magari si è mossa ha toccato la scrivania e quindi per questa cosa accidentale il computer ha fatto l'accesso a internet ma veramente per 14 anni gli investigatori pensavano che fosse stato il killer alle 10 del mattino a muovere il mouse e fare l'accesso a internet quindi pensavano che fosse stato in casa dalla notte prima fino alle 10 del mattino quindi questa informazione ha complicato un caso già difficile di per sé perché la teoria precedente anzi la certezza che avevano prima non lasciava molto tempo al colpevole la madre di Yasuko era andata a casa di sua figlia dopo le 10 per controllare se stessero bene e poi la polizia era stata chiamata alle 10.56 ciò significa che se fosse stato davvero l'assassino ad accedere a internet alle 10 non avrebbe avuto molto tempo per scappare però a partire dal 2014 come vi ho detto tutta questa teoria del fatto che avesse avuto pochissimo tempo per scappare che fosse rimasto in casa fino alle 10 cade e si realizza che l'assassino sarebbe potuto scappare in qualsiasi momento compreso tra l'1.30 di notte e le 10 del mattino che è una finestra di tempo enorme per questo motivo l'indagine è stata un po' un disastro per questo e perché alla fine tutti gli indizi non portavano a nulla c'è da dire che probabilmente gli investigatori arrivando in casa e trovando tutte queste prove probabilmente hanno preso alla leggera il caso inizialmente pensando quindi di trovare subito un assassino non si sono concentrati abbastanza sulle cose importanti o comunque non le hanno dato il giusto peso pensando che appunto sarebbero riusciti tranquillamente a trovare il colpevole però così facendo hanno fatto passare del tempo che in realtà era fondamentale per capire chi ci fosse realmente dietro tutto ciò questa però è una mia personale opinione secondo me è stato così non so se effettivamente poi avessero davvero preso sotto gamba il tutto comunque nel corso degli anni dovete sapere che tantissimi investigatori hanno indagato a questo caso una fonte dice che addirittura l'indagine è tra le più grandi della storia giapponese e ha coinvolto oltre 246.000 investigatori che hanno raccolto oltre 12.500 prove 12.500 prove da 250.000 investigatori vi rendete conto ci hanno lavorato tantissimo per tantissimo tempo in tantissimi e non si è arrivati ad una conclusione e non perché non sanno fare il loro lavoro per carità ma perché veramente l'assassino è sparito il suo dna non è da nessuna parte le sue impronte non sono mai state registrate nel sistema giapponese ma neanche in quello coreano dove si pensava fosse originario l'assassino ed è strano perché in corea vieni schedato o meglio hai bisogno di registrare le tue impronte digitali per fare i documenti in corea quindi invece no non c'è stata alcuna corrispondenza né lì né in giappone è veramente una storia assurda ciò che è accaduto alla famiglia Miyazawa è tristissimo e fa davvero incazzare pensare che il colpevole non sia mai stato preso non sia mai stato catturato in ogni caso tutte le prove relative alla vicenda rimangono in custodia perché è ancora tutto aperto e purtroppo è risolto nel 2015 sono stati assegnati al caso 40 agenti a tempo pieno ma non è servito a nulla nel 2009 invece erano 35 gli agenti ancora assegnati al caso e nello stesso anno il dipartimento di polizia ha annunciato l'abbattimento della casa di Miyazawa il motivo è semplicemente la sua età e il conseguente rischio di crollo nel dicembre 2021 sappiamo che c'era ancora una ricompensa di 20 milioni di yen per qualsiasi informazione che avesse portato all'arresto del colpevole e nel 2022 Universal Audio USG ha lanciato il podcast Faceless che ha fatto un approfondimento sugli omicidi di Setagaya la storia infatti è discussa tutt'oggi perché oltre ad essere orribile è davvero misteriosa con tutte queste prove con tutti questi indizi nessuno ha trovato il colpevole è veramente assurdo ragazzi cioè pensateci è un bene che il caso sia ancora aperto e che sia in corso per carità ma fa proprio rabbia pensare che non ci sono risvolti positivi nessuna pista niente delle teorie più recenti parlano addirittura di tre assassini ma sono solo teorie probabilmente dovremmo attendere ancora un bel po' prima di scoprire la verità semmai la scopriremo ma voi cosa ne pensate pensate che il killer o a questo punto i killers siano ancora vivi oppure no e secondo voi perché qual è stato il movente quali sono le vostre teorie sono sicuro che ne avete avete delle ipotesi e io non vedo l'ora di leggerle intanto ai pochissimi che rimangono fino a qui anticipo che presto parleremo di due migliori amiche e non vi dico altro spero comunque che rimarrete nei paraggi per cui se vi ho incuriositi ricordate di massacrare il pulsante iscriviti e adesso parlo con te si proprio con te se ancora non ti sei stancato di sentirmi parlare ti consiglio questa storia da brividi oppure questa playlist in cui ho raccolto tutte le storie che mi hanno colpito più nel profondo vi ricordo infine di seguirmi anche su instagram se volete farvi i cazzi miei e niente vi ringrazio ancora e vi do appuntamento al prossimo venerdì con un altro file ciao ciao